no nessun bottino bello e' probabilmente perchè non l'abbiamo reclutato infatti soldi ne sono scesi no ma io ce l'ho su questo come c'è? no no dei soldi no questo qui ce l'ho non è quello a lei reclutato no ma è quello base sempre quelli base ho no capito invece la guerra di frazioni come funziona boh io metto attacca non so se serve io ho scelto la mappa io faccio così ok ordini cos'è? ordini giornalieri piccato e versatica completa tre missioni mischia ppi allora completa tre missioni mischia pvi con qualsiasi cosa e non avanguardia che penso che se sia quello che sto usando io l'avanguardia vediamo avanguardia ok ah devo scegliere uno di quelli che stai usando tu quindi missioni mischia è quello che stiamo facendo noi adesso o mischia no? ehm sì mischia ok ok allora prossimo difendo uno di quelli che stai prendendo anche tu proviamo un po' il samurai quello potente quello ho scioppato il conquistatore conquistatore è il cavaliere quello scudo è mazza quindi io provo questo e i tuoi occhi in punto modo da livello 1 e non ti sai il livello tipo se lo usi si sono di livello ah ok sai il livello anche non so cosa serve lo reclutare non ti toglie i soldi si se lo recluti si questa modalità forse devi farlo ah ok ma tu non ah ma tu avevi schiacciato solo a si si schiacciano lo recluta se invece lo recluti penso non te lo fa usare ma penso che sia solo questa modalità te lo fa provare probabilmente multiple normale non se non li recluti non te li fa usare prima come ma no che mi sa che è tipo l'assassino a volta mi pare più leggero dell'arte eh si è quello che aveva detto altri primo quello con l'arco son due son due oh appena è capitato uno oh scusa ok cazzo secondo venga sai che sto gioco qui potrebbe veramente ubare giorni di vita all'infinito eh è probabile perchè è molto basato sul sui riflessi infatti si è notato la differenza tra te che hai giocato prima e io che non ci ho ancora giocato che si è già solo con quello retta in più si nota la differenza figurati con no no non riesco a far fuori la vicino con lo scuro mia mi ammazzano senza e non ce la fai se ti toccano guarda che si colpiscono da solo eh sono troppo lento vero che ti fa proprio sentire la pesantezza e l'ammatura di tutto quello che hai addosso quando c'è chi scappa e non ce la fai mai anche quando caicano i colpi sono sono lenti cioè non sono mosse velocissime ah mi stanno 30 fps adesso però non è andato adesso decapito avvio 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 ok tienilo così così mi dà le spalle anche a l'ambiente l'ambiente ma a caro caro stanchissimo aria c'è avanti quello che posso adesso vediamo se riesco capire come come gestire l'ambiente i i i i i i quando senti vivai l'arma che suona trae l'ho fatto fuori 1 cazzo dove sei? ah da parte opposta merda eh senti parecchie differenze di velocità ma cazzo non mi beccava l'altro come parata sono mica visto quando muoio ah no perchè vedi il tuo personaggio per terra non vedi gli altri giocatori forse si può switchare no contro il samurai solitamente lo faccio fuori ma cazzo mi ha buttato giù ocho ok adesso vedo te violenza ma come cazzo fai parali tutti non ho idea sto spammando le parate però non capisco questa roba della vendetta la vendetta non viene stannato se lo ti colpiscono può continuare a fare gli attacchi quindi o lo si parano o vanno in vendetta anche loro o ordini completati eh sono quelle obili che dovrebbero sbloccare obili perchè se tu vai su obili anche piccatore avversati e ti da 300 monete così se io piglio queste posso sbloccare una un personaggio ah quello ho preso picchiatore avversati ah poi c'è quello pvp come? c'è anche il picchiatore avversati le pvp cioè? è la stessa cosa solo che invece essere ma come fai se è andato su e boe? no su ordini ah ok piccatore avversati poi facciamo pvp poi proviamo sprovo medico dominio abbiamo 5 alleati in dominio e poi vince un duello in pvp senza mai morire allora facciamo no aspetta com'è che si fa? vota mappa ok altrimenti c'è ah no buon 10 secondi fortezza fluviare che a te da vale mi spia minchia è figo però mi sto divertendo no no ma anche io mi sta piacendolo molto non capisco ancora bene alcune meccaniche ma casuale posso fare no no Berserk un cazzo della tizia no mi prendo sempre questo anzi mi prendo il mio cavaliera vaffanculo dopo che ci ho speso 2000 monete per cambiargli tutto l'elsa la spada guarda che spada che ho cazzo spadone lungo di saffo guarda com'è bello largo cazzo l'elmo le spalle l'elsa io ho cambiato tutto l'hai fatto maschio si si femmina mi stava sulle palle come me poi non mi ricordo il medioevo femmine io magari c'erano no no però è molto difficile che mandavano se c'erano non erano si nascondevano se c'erano ah ho c'ho le pozzie d'acqua che io sono morto l'idea forse un guy se muoio se ci vai all right e' morta nella pozza d'acqua c'è andata sua adesso in questo istante le morte solo che sta roba del fuoco amico mi spaventa un po' di cosa? di fuoco amico quei vecchi simpaticoni ah mi sto locando l'altra corte puttana puttana è difficile i cobassi di usare sempre l'analogico per la a farle parlare di che magari muoiono tutti mica ii per parte per fare per attaccare per fare tutto merda no no l'aveva ucciso se uno uccisi tra di loro uno a uno siamo la voce in italiano mi fa un po' cagare del terzo round si mi sa che le voce le hai rigotte in inglese lascio solo i testi no 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 nasturato io non muore nel geyser E si glitcha la palla della mazza Cioè che succede? Si flippava contro la mano Invece di stare giù Con la gravità Mi viene contro la mano Ciao ragazzi Ciao Saffo Ciao Trex siccome è andata la beta Eh sta andando bene, ci stiamo giocando Mamma mia che cagata Stiamo registrando In che senso? Che ho appena cagato Che cagato Stavo andando di me Io non riesco a contattarla perché mi scudo il vikingo Qua il copy mi batte subito Non so Raga ho ricevuto un invito per solo Sei attento Eh beh giocalo è figo Eh no domani faccio Domani sta facendo un amico e lo stringiamo Che c'ha la fibra lui Un pezzo di me C'ho un amico che c'ha la fibra Ha detto Carai perché non faccio Lo voleva vedere pure lui Vieni qua col pc Lo montiamo un attimo E lo stringiamo Va bene C'ha passato E poi c'è un po' con la voce Bella arriva Ah è in casello tirato Eh piano piano sta parando Mamma mia Abbattimenti solo due Io sono una pipa Ho ottenuto una lama Secondo me lo tieni le obbe solo se Se te eserchile a curo Saffo adesso Basta essere così volgare Ho capito che Fai alcune cose di Di consertudine Eh 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 Devo che tu ne lo fissi Nei a curo La era più interessante Ah A meno di Eh Si possono comprare anche contratti Cioè Se vai su ordini Poi hai tre slot Ah si 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 Ho preso io quelli aggiuntivi Si 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 Però sono tutti pvp Solo due pvp Ma il segnala Eh non ho vinto neanche Eh Con qualsiasi eroe no Avanguardia Devo Me ne mancano due Le altre Le altre sono tutte pvp Senza mai morire Beh è un duello L'hai finito Po Resident Evil 7 Si 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 Ti piaciuto Si si Lo consiglierei a chiunque Ah ti dice anche le difficoltà ne utilizzo Facile e medio Si è cagato in mano quante volte Eh tantissime Bellissime quegli urli È bello che mi spaventavo più per gli urli che per il gioco Si Antonio che se la faceva addosso per i telefoni che squillavano Eh si perché si è lì tutto teso Eh lo so si Mi è suonato Mamma mia Mi sono Che cazzo Non mi ricordo cosa mi aveva scritto Mamma mia Mi sono cagato nelle mutande Mi è suonato Si è suonato Quando il telefono Mi ha cagato nelle mutande Eh proprio il telefono No ma ha detto E' andato E' andato via a fare qualcosa E' tornato lì Sì E visto che Il gioco ha più suoni Che a tre robe Non sentiva abbastanza alzato Il tempo di alzare Guardare due secondi E' squillato il telefono A volume massimo Si è cagato tantissimo Avete visto? Che figata Bellissima sta Bellissima sta Bellissima sta Bellissima sta Cosa la Il taglia di la testa La vicino Secondo round Che figata è un'altra Seguisciato il modello Ha fatto un reddol Dai che ammazzo questa Abbastanza giù Fatto Avivo Tutti giù Ma posso spingerti Forse si No No non penso Penso che Occupiamo lo spazio fisico Ma non ci sia La possibilità di spingere Posso colpirti Ti fa sbilanciare Andata Cazzo Dai quello in te Nel cuore mio Naruto Basta Damiano è impazzito oggi Come sei potente Cazzo Sei più potente Degli spinaci Li faccio di ferro Degli spinaci No Que fai Degli spinaci Degli spinaci Degli spinaci Grazie.